Vi presento Murano Vi mostro l'arte Vi presento il Made in Italy Vi mostro l'energia che è in noi e che ci spinge giorno dopo giorno a dare vita all'arte L'arte che è racchiusa in un vetro e un vetro che racchiude mille riflessi e mille fatiche La nostra è una storia preziosa come sono preziose le nostre opere fragili e maestose La nostra passione è ciò che ci spinge a fare della nostra storia il nostro futuro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti